Amici di Unibet.it, come di consueto è il momento di parlare di Champions. In campionato il Napoli ha strapazzato l'Inter e non ce l'aspettavamo con una prestazione così bella. L'avevamo sperato nella vittoria, l'avevamo detto, era fondamentale battere l'Inter, ma non così bene. Non ce l'aspettavamo, addirittura con tanti gol, un 3-0, il Napoli che non subisce reti quando c'è Albiol, ma questo l'avevamo accennato. Però bisogna cambiare già pagina, non c'è neanche il tempo forse di gioire. Abbiamo gioito tanto, abbiamo guardato le altre partite e ora bisogna puntare dritti alla sfida di Champions. Un Napoli che deve conquistare gli ottavi di finale e deve farlo battendo o comunque trovando almeno un pari in quel Daluz che ci vide protagonisti in una partita che era la finale di Intertoto. Era un altro Napoli, c'era Direia, c'era Lavezzi, c'era Amsic. È un Napoli che deve assolutamente però fare risultato. Era il 2008, quell'anno, siamo passati un po' di anni. Il Napoli torna al Daluz con la possibilità questa volta di superare il turno. Un pareggio può bastare ma il Napoli non deve giocare sotto ritmo. Quindi cosa giocarsi? Beh, X2, assolutamente. Puoi scommetterci con noi e possiamo anche scommettere che si segnerà. Io sono convinto che tutte e due le squadre segnino e sono convinto che si faranno anche un po' di gol. L'andata finì 4-2, ve lo ricordate? Potrebbe essere un risultato non certo uguale. Ce lo auguriamo per il Napoli un 4-2, ma potrebbe finire, che ne so, 2-2 per esempio, un risultato da poter giocare. Il Napoli deve però fare risultato. Puoi scommetterci unibet.it, giocate con noi come sempre e alla prossima.